numero 6 questa è una lampada da scrivania fatta da un tubo flessibile in silicone con un collo d'oca che offre un'ampia mobilità per regolare la direzione della luce in qualsiasi posizione inoltre la testa e la base ruotano di 360 gradi in modo da poter fare una regolazione molto più personalizzata in base alle proprie esigenze un altro punto di forza che vediamo in questo prodotto è la dimensione della testa che è lunga circa 31 centimetri per fornire un'uscita di luce uniforme che copre l'intera scrivania inoltre la testa incorpora 90 led con tre modalità di colore e 10 livelli di luminosità offrendo un'illuminazione che si adatta a qualsiasi situazione se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 5 si tratta di una lampada da scrivania a led regolabile in alluminio che fornisce la potenza ideale per coloro che hanno bisogno di svolgere un lavori meticolosi e per i quali l'aggiunta di una lente di ingrandimento aumenterebbe la loro produttività o renderebbe più facile lo svolgimento dei loro compiti si può posizionare su qualsiasi bordo del tavolo senza occupare molto spazio a 10 livelli di intensità di luminosità e 3 temperature di colore in modo da poterla utilizzare per concentrarsi quando si studia o per rilassarsi quando si legge un libro se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 4 è una lampada da scrivania a led pieghevole con una base in alluminio che fornisce la potenza ideale per coloro che hanno bisogno di una luminosità più che sufficiente per compiti come lo studio ha una luminosità regolabile in 10 livelli e 5 modalità di colore con memoria in modo da poter regolare il tipo di luce necessaria per i vostri compiti non ha bisogno di essere collegata tutto il tempo perché ha una batteria e si può usare senza fili e realizzata con materiali di buona qualità e tutto ad un prezzo molto economico è molto completo ha anche un timer di spegnimento automatico e la sua base ha una porta di ricarica usb integrata da uno a per poter caricare i dispositivi elettronici il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 3 è una lampada da scrivania a led regolabile con una base in alluminio che fornisce la potenza ideale per qualsiasi tipo di scrivania i suoi punti forti sono la sua flessibilità e la luminosità che offre ad un prezzo molto ragionevole ha tre modalità per regolare la luminosità in base alle esigenze di ogni persona e due modalità di colore per alternare tra caldo e freddo il tutto dalla testa della lampada la luce che fornisce è potente e ha lampadine a led che si caratterizzano per la loro grande durata e il basso consumo puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 2 è una lampada led flex o regolabile in alluminio che fornisce la potenza ideale per coloro che hanno bisogno di una luce molto concentrata su grandi scrivanie e che lavorano con diversi libri o schermi allo stesso tempo e ergonomica infatti si può posizionare su qualsiasi bordo del tavolo senza occupare molto spazio e offre una grande varietà di posizioni tra cui si può scegliere si distingue per i suoi quattro livelli di intensità luminosa di 25 50 75 e 100 per cento l'area che illumina è molto grande e incorpora lampadine a led che garantiscono un basso consumo energetico trovi il link di questo articolo in descrizione numero 1 è una lampada da scrivania a led regolabile con una base in alluminio che fornisce la sensazione di illuminazione ideale per coloro che hanno bisogno di molta luce su grandi scrivanie e che lavorano con diversi libri o schermi allo stesso tempo si può posizionare su qualsiasi bordo del tavolo senza occupare molto spazio e ha una grande varietà di posizioni che si possono scegliere mantenendo massima stabilità a quattro temperature di colore da caldo a freddo in modo che possa essere utilizzato sia per la concentrazione durante lo studio che per rilassarsi leggendo un libro prima di andare a dormire se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione guardate 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 Grazie a tutti.